dentro casa una gattina impasta il pane alla mattina lo prepara con il sale è un odore che mette fame e quando è pronto chiedo un boccone lei dice no sei già ciccione dentro casa una giraffa prepara il vino nella caraffa e lo prepara rosso e bianco di stare a secco io sono stanco e quando è sera le chiedo un goccio lei dice no l'ho dato all'orso ora a casa c'è puro dorso è ubriaco e russa molto sta sdraiato sul divano bicchiere asciutto bottiglia in mano e quando chiedo di sdraiarmi lui dice zitto e non svegliarmi dentro casa ho troppe bestie mi dicono sempre che devo fare gli animali io li amo e non li mangio sono vegano così li ho chiusi fuori casa e gli ho detto addio non c'è speranza ma fuori c'era la quarantena e li ha fermati la polizia stavano andando verso brema li ha riportati a casa mia l'italia oggi sta male è sconsidiliato uscire anche litigare e ora siamo davanti al fuoco e devo dire parliamo poco ci guardiamo anche in cagnesco ma per il cane non c'è più posto la gattina prende il pane e ce lo offre è un buon segnale e la giraffa dal suo taschino fa uscire i calici e verse il vino e l'orso da sotto la pelliccia tira fuori i funghi e la salciccia e infine manco solo io il porcellino la casa l'ho fatta io e se non è merito la domona